Ecco, ecco come cosa succederà, Pantheon salta addosso, full combo, lancia nel cuore, Kog, come quando guardiamo la live di Fraga, vai così, vomito addosso all'avversario, kill, questo è quello che mi aspetta da questo Kogmo. Look when I decided to live forever, look, this, 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 this is inting, you are trading with one creep with six basic from the wave, how fucking sub, how fucking pa, how fucking re, how bad are you, how fucking bad. How bad are you? Dan, and you are trading, and you are trading against a sustain lane, ok? Think about how much psychopath you are, fucking, man. Drago, al lago d'ira, mamma mia, ma sono il Geridos al lago d'ira, maestro lei è toccante con queste citazioni oggi, lacrime in chat. Lo sapete che io gioco per umiliare le persone per non farle uscire dallo spawn, giusto? E quando umili talmente tanto un tipo che non riesce a tirare lo stopwatch perché è frizzato, non riesce a trovare il tasto nella tastiera perché sta cercando di doggiare le spell, ma non ci riesce, giusto? Questo è umiliare. No, si arriva a Nunello. Vai, vieni, vieni. Animale. Vuoi farlo ancora? Vuoi riprovarci? Oh, no, ho point. La cazzo vuoi fare? 250 gold. Ghost Rakan. Ghost Rakan, Shurelia. Deadman's Play, tutti. Dio mio. Sembro Usain Bolt sotto ster... Ster... Sterline. Sotto sterline. Andiamo. Word. Word. Dammi il due. Dammi il due, dammi il due, dammi il due. Che cazzo fai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Ho idogra... Cosa cazzo fa sto trash? Va bene, fai quello che vuoi. Nessun problema. No problemo, no problemo. Ora questo non c'è il flash. Sapete cosa vuol dire, vero? Il miglior player del server. Ecco cosa vuol dire. Eccoci qua. Ciao ragazzi. Eccolo qua. Eccolo qua. He's fucking back. The god is fucking back. Grazie Manubrioz e grazie Xeno per il sub, ragazzi. Baby! Dai cazzo! Oh no! Mamma mia! Mi servono otto minuti! Ma succhiatevi il cazzo! Oh no! Oh no! Oh no! È la lanterna. Oh no! Arriva Zed. Voglio quello Xinzao. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene! Flashami le palle! Flashami il cazzo! Flashami! Oh cazzo! Se forca è la prima volta nella storia che worko una roba così! A livello 3? No, gli ducro. Ho trollato. No. Gado come un porco! Molto bene. Vieni di qua. Beccati Rostan. Lo becchi anche tu Rostan, lo sai? Ecco la salta, ti becchi. Un bel cazzo. Un bel... Ah! Fammi il... Fammelo! Fammelo! Do! Oh no! Do! Oh no! Do! La 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 la! Coglione! Oh no! Il pollice mi fai! Succhiami il cazzo! Paracadute sulle spalle! Let's stop! No 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 no! Non mi serve il paracadute! Mi fermo così? Col pensiero? Prima di atterrare al suolo? Bam! Così si fa! Easy! Provateci anche voi! No scherzo! Scherzo non fatelo! Non imitatemi a casa, per favore! Non fatelo a casa, sta roba qua! Don't try this at home! Questo qua volevo rompere i coglioni a Jinx! Don't try this at home! Cartello, ragazzi! Bollino rosso! Bollino rosso sotto, ragazzi! Play troppo aggressiva! Don't try this at home! Tanti auguri Stefania! Tanti auguri Stefania! Tanti auguri! Ci vediamo domani! Oh! Non mi prende! Scherzo Stefania! Quanti anni? 18 immagino! Mamma mia! Mamma mia! Con che coraggio vado in! Con che coraggio vado in! Con che coraggio vado in! Con uno di vita! In una situazione disperata! E salvo tutti! E salvo tutti! E salvo tutti! Ciao Stefania! Scherzavo comunque! Mi raccomando! Tenga d'occhio suo figlio! Che sei sulla brutta strada! Sulla brutta strada! Ci sto pensando io! Ci sto pensando io al momento! Ma stai attento! Se lo vede giocare Iumiele! Prenda la cazzo di ciabatta! Oh my! Washing Deiru! Nella nuca secca! In competitivo mi avrebbero fatto un video di anni! Un video di anni e anni per quel cazzo che ho fatto in sto fight! Voglio dimostrare a tutti che con la mentalità giusta da soli si ottiene ogni cosa ragazzi! Ogni cosa ragazzi! Svegliatevi la mattina se vi sentite che il vostro cervello ha il controllo! Prendete il controllo! Se vi deprimete dopo un game perso di League! Non esiste la depressione per un game perso! Non esiste l'ansia per giocare a League! La paura di giocare a League! Non esiste! È il vostro cervello che vi prende per il culo! Reagite! Reagite ragazzi! Voi avete il controllo! Non il vostro cervello! Voi avete il controllo sui vostri pensieri! Siete voi a pensare! Sono streaming! E se noi fossimo il cervello, slave! Se vuoi fare il fottuto filosofo di merda vai in Grecia! E i filosofi non sanno giocare! Per quello parlano! È pieno di filosofi in Italia! Di Catanzaro! Immaginavo! Ti do la lanterna mate! Ti do la lanterna! Fai quel cazzo che vuoi! Facci! Devo sacrificare io, vero? Lacrime in chat! Lacrime in chat per sto figlio di puttana! Che vuole una cazzo di torre di merda! E mi devo sacrificare io! Maestro misericordioso! Anzi mi dite in chat! Sì guarda! Tranquilla! Quando guardo guarda! Si capisce che quell'arma è la fonda del suo potere! No! Pensavo che girasse! Che fosse il braccio quello! Pensavo fosse il braccio di Senna! Che poi! Tirasse dalle mani un qualcosa! Un raggio laser! Secondo voi da dove arriva il potere di Senna? Dalla mano! E na! Ok! Spero per te che ci sia la frase migliore della tua vita! In questi ultimi cinque secondi! Next on the list is a new thematic called Space Group! Vai Copban maestro! Ragazzi! Abbiamo aspettato dieci anni per parlare di questa cosa qui! Vogliamo assicurarci di tenere l'integrità competitiva! La skin di Lissin! La silhouette di Senna! La silhouette di serpentino! è bad! La cetta è perla di quellare di villains! Credili d'essere a tutti! Quaggisci! Grazie a tutti.